Durante il suo ultimo concerto Nico Pandetta ha avuto un imprevisto abbastanza pesante Infatti a fine della performance si era allontanato per uscire dal locale E un ragazzo lo ha avvicinato con la scuola chiaramente essendo fan dei saluti o di foto o altro E nel mentre ha provato a rubargli la collana Chiaramente Nico si è infastidito per questo gesto e facendosi portare il rispetto L'ho preso a schiaffoni davanti a tutti E chiaramente sono cose che non si fanno Dopodiché è uscito dal locale Il video purtroppo è diventato virale senza la dovuta spiegazione E quindi sembrava che lui picchiasse un tipo a caso del pubblico E ha voluto aggiungere le sue stories Una sua spiegazione dei fatti riguardo quella sera Non aggiungo altro quindi ai vi lasci filmati Fatemi sapere con un commento qui sotto se pensate Noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio Ragazzi buongiorno a tutti Praticamente sta girando un video dove lo scaffo Ho un fan Chiamatelo fan perché è un pezzo di merda Volevo specificare che gli ho dato lo scaffo A questo pezzo di merda Perché ha provato a scipparmi le collane Perciò ragazzi non ci provate contro di me Perché prendete solo a botte Noi ci vediamo Noi ci vediamo